Ciao a tutti e ben ritrovati nel mio canale Oggi vi mostrerò la realizzazione di una crema viso Una crema viso completamente formulata da me Infatti ci ho messo un po' di tempo a pubblicare il video È una crema viso adatta alle pelli grasse e miste Facciamo più miste che grasse È una crema che io ho formulato perché avevo necessità appunto di un prodotto che funzionasse come questo In realtà sto avendo un po' di problemi a livello ormonale in questa parte del viso E quindi avevo proprio bisogno di un prodotto che andasse a mantenere la zona purificata Quindi che andasse a controllare la troppa produzione di sebo Infatti all'interno sono andata a inserirci la niacinamide E sono andata a inserirci anche l'estratto di propoli Che ha un effetto antibatterico Mentre avevo bisogno anche di una crema Che andassi a allenare quelli che sono gli arrossamenti e le irritazioni Anche perché alcuni brufoli mi facevano proprio male Come si suol dire Bubboni E per farlo Quindi per andare a allenare Sono andata ad inserire l'estratto di camomilla E l'estratto di arnica La quota grassa è una quota molto bassa Quindi ovviamente non vi aspettate una crema molto nutriente Diciamo che è una crema che va bene per chi ha questo tipo di problema Quindi di pelli grassi o miste Quindi se avete una pelle secca Sicuramente non andate a riprodurre questa crema Perché non vi farà nulla Anzi Probabilmente la pelle avrà ancora più sete dopo Vi lascio il video tutorial Vi invito ad iscrivervi al mio canale Se ancora non l'avete fatto E nulla Vi mando un bacio E ci vediamo presto Allora Partiamo dalla preparazione del gel di xantana Andiamo a disperdere la xantana nella glicerina E a poco alla volta Mescolando Aggiungiamo l'acqua di amamelide L'altra percentuale di acqua Cioè quella non di amamelide La utilizzeremo per il gel di carbo Quindi il Carbopol Ultrez 21 Lo andiamo a spolverizzare sulla superficie dell'acqua E lo lasciamo idratare senza toccarlo Prepariamoci la fase grassa a parte Qui vi sto facendo vedere il tritril citrate Che è un olio adattissimo per chi soffre di acne Perché comunque va a contrastare la formazione batterica Qui abbiamo ripreso il gel di carbopol Lo abbiamo frullato E lo sto tamponando con due gocce di soda caustica Noterete dopo l'aggiunta della soda Che mescolando cambierà viscosità diventando più denso Aggiungiamo a poco alla volta il gel di xantana Quindi sempre mescolando E diamo un'ultima frullata Prima di andare a scaldare Deve raggiungere la temperatura di 70-80 gradi Nel frattempo stiamo scaldando a bagnomaria Anche la fase grassa Che deve raggiungere sempre 70-80 gradi Quando il gel di carbopol xantana sarà caldo Possiamo sciogliere l'allantoina Quando la fase grassa sarà scaldata Possiamo aggiungerci l'olio di canapa Perché è termolabile Quindi mi raccomando Non lo andate a scaldare insieme agli altri oli Ma aggiungetelo dopo A questo punto possiamo emulsionare Quindi prendiamo una piccola parte della fase grassa E la andiamo a inserire nella fase acquosa E frulliamo Mi raccomando il mini peamer Sempre immerso per il discorso delle bolle Aggiungiamo l'altra parte della fase grassa E continuiamo ad emulsionare Noteremo fantasticamente che la nostra crema Inizierà a prendere forma Inizierà a diventare bianca Una volta che la nostra crema Si sarà raffreddata un pochino Possiamo dedicarci alla fase C In questa fase ci sono degli ingredienti in polvere Quindi sarà utile andarli a disperdere All'interno di attivi più liquidi Prima di inserirli nella crema Infatti io disperzo la niacinamide All'interno dell'estratto di camomilla E dell'estratto di arnica Perché solo quello di camomilla era troppo poco E l'ho aggiunto nella crema La stessa operazione l'ho fatta con il dry flow Che ho disperso all'interno del bisabololo Dopodiché ho aggiunto anche il pantenolo E la bava di lumaca Come vedete sono tutti attivi Dedicati a chi soffre di problemi acneici Ho aggiunto anche l'estratto di propoli Che ha un'azione antibatterica Potete aggiungere una fragranza di vostro gradimento Il pH deve essere 5,5 Spero che la ricetta vi sia piaciuta Se ancora non l'avete fatto Iscrivetevi al mio canale Vi mando un bacio E ci vediamo presto!